Ritorna a sabato 1 ottobre l'appuntamento con la Dolomiti Rescue Race, la manifestazione nazionale ed internazionale che ha come protagonisti i componenti del soccorso alpino che si sfideranno come di consueto in prove tecniche e di resistenza. Sabato 1 ottobre si rinnova per l'undicesima edizione la Dolomiti Rescue Race, la gara cresce le squadre di soccorso alpino di tutta Europa per gli incontri sportivi e di scambio di relazioni su quella che è la nostra attività e anche una nostra festa, praticamente ormai il raduno nazionale europeo. La manifestazione, nata come occasione di incontro, di confronto e di amicizia tra i gruppi di soccorso alpino italiani e del mondo, vedrà i partecipanti sfidarsi in un contesto diverso da quell'operativo ed intervento, ma senza dubbio spettacolare. La gara si svolge alle pendici del Montantelao, la gara parte dalle ore 9 in località Pracedelanca, l'Alzo di Cadore e arriva verso le ore 11 nella piazza Tiziano dove ci troviamo adesso a Pieve di Cadore. Anche quest'anno avremo una compagine straniera di partecipanti per cui attualmente sono 5 le nazioni iscritte, per la prima volta avremo l'Austria come partecipante, per cui siete invitati tutti a vedere le squadre del soccorso alpino che si sfidano tecnicamente e fisicamente e poi stare con noi per festeggiare questa associazione e questi volontari. La gara di sabato sarà preceduta venerdì 30 settembre dalla presentazione ufficiale a tutte le squadre partecipanti alle 21 presso l'auditorium Cosmo. Sabato invece, dopo l'arrivo dei concorrenti in piazza Tiziano, spazio alla festa aperta a tutti. La vostra partecipazione naturalmente contribuirà all'attività di noi volontari del soccorso alpino e al servizio che offriamo alla comunità.